Come usare al meglio il microonde in 5 mosse Scegli i recipienti adatti, in vetro, pirex e porcellana, evita quelli in metallo e terracotta. Per quelli in plastica, verifica che ci sia il logo apposito. Taglia le verdure in pezzi e mescola a metà cottura. Pela gli alimenti o punzecchiali prima di metterli nel forno. Fai attenzione ai liquidi. Quelli riscaldati in eccesso possono sviluppare grosse bolle e schizzare fuori dal recipiente. Mescola bene prima di bere. Attenzione alle scottature. Il cibo riscaldato trasferisce calore al piatto o al contenitore. Estrailo con cautela. Se lo sporco è poco, pulisci inserendo nel forno una ciotola di acqua e aceto. Poi accendi il microonde alla massima potenza per pochi minuti. Infine, passa un panno per pulire le superfici umide. Attrazione alle scottature. Attrazione alle scottature. Attrazione alle scottature. Grazie mille. Grazie a tutti.